Dovresti coltivare questa passione per la musica secondo me Ti vengono bene anche le canzoni Eurovision Basta, chiamo di Eurovision Mi sembra che gli hai detto questa cosa Chiediamo, dai One, One Skin, Eurovision, Italy Everybody want to see Mafia, Pizza e Mandolin Ciao Devi fare l'introduzione tutta però Cosa avete fatto a Pasquetta? Beh io ho passato una Pasquetta incredibile Dai, dai raccontacela Io sono stato in campagna da me A Pisa, campagna pisana E sono fieramente pisano Tra l'altro non so se qualcuno ha qualcosa da ridire Però mi piace anche Bologna E abbiamo fatto una prana Chi ha qualcosa contro i pisani? Attenzione perché? Ma avete fatto una? Prana Non dirlo a Bologna C'è un pranzo che diventa cena Vuol dire un'altra cosa Ah sì? Che vuol dire? Chi è che ha il coraggio di dire cosa vuol dire del pubblico? Che vuol dire? Nessuno lo vuole dire Nessuno ha il coraggio di dire Lo scoprirai alla fine Ma per cui ce lo sei solo te? Parlaci della tua prana E poi vedremo dopo cosa vuol dire Vogliamo parlare della mia Pasquetta Ma la mia Pasquetta è stata una Pasquetta molto umile Come modesta Dove abbiamo in campagna 22 persone Il pranzo alcolico Inciuci E poi Ha detto che non si sbottonava questa birra? No, però vorrei capire perché è così Cosa? Sentita? Eh, perché una mia ragazza Si può raccontare la Pasquetta Ma perché mi senti se è stronzo? No! Ma non pensavo fosse quello Ma avevi detto un taglio di carne particolare? No, è stato molto bene Io dooro Perché allora io dovrei sapere Dico Io ho iniziato a calcolare Le mie I miei momenti di festa In giornate scolastiche Cioè quando esco Se dico Se esco alle 8 8, 9, 10, 11 Mezzanotte Una Ok 5 ore 5 ore di scuola Quindi una volta Arrivate alle 5 ore di orare lo scolastico Me ne torno a casa Ok? Quindi sono molto contento Con questa Pasquetta Che è durata due giornate scolastiche 10 ore Quindi basta iniziare prima Sì Eh sì Perché se no è bello Far festa in diurna E non sono un fan Del Ha fatto una bella prana Dai Bellissimo Bellissimo E cos'hai fatto a Pasquetta? Rispetto alla sua È curiosissima Già avevo un sentore Di non stare molto bene Ho fatto Il castello di Pralormo Vicino Torino Una roba 20 minuti di macchina Vicino vicino Dove Ci sono i tulipani E quindi c'è questo Castello Inondato da tulipani E la gente È disposta a pagare 10 euro Per Per vedere i tulipani Tu invece non li paghi Perché sei Una persona mista No no Purtroppo l'ho pagato Anch'io Hai pagato 10 euro Per vedere i tulipani Io e E mia moglie Non so se si può dire Si può dire il podcast Moglie Più che prana Più che prana Sicuramente Si può dire Detta in questo modo Suggerisce che forse Sei stata un'idea sua E tu alla fine Hai dovuto accettare Ho dovuto accettare Ma quando vi siete sposati? Settembre 2022 3 settembre Applauso 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 Facciamo vedere l'anello Sì ma nulla di serio Nel caso ci fossero fan E il ricevimento è stato Cioè comunque Cioè matrimonio giovane Via di gioia Praticamente hai presente La canzone dei Non mi viene adesso Dei Beirut Sì Postcard from Italy Bellissimo No era Gallipoli Scusa Gallipoli Ah meno bella No come meno bella E siamo entrati con quella E siamo usciti con l'altra Quella lì Sempre tutta piena di Elephant Gun No Non dei Beirut Quando mi verrà in mente Ve lo dico Sembra un po' Quando mia madre mi dice Hai presente quella canzone Quella dei Quella non mi ricordo adesso Il cantante La canzone si intitola Adesso non mi ricordo il titolo Però Aspettami Quindi è durato comunque Sei minuti il matrimonio No esatto È durata un'ora È qualcosa Un'ora è qualcosa Quindi comunque l'hai fatto Come si deve Come si deve Ma in chiesa In chiesa Beh comunque se decidi di sposarti Perché io appunto Ora in questo periodo Della mia vita Non sarei Non so cosa succederà No però non le puoi sposare tutte Quelle di Pasquetta No 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 In Italia perlomeno Quello che succede a Pasquetta Rimane a Pasquetta No però Ora come ora Nella mia vita Non credo che mi sposerò Però giustamente Se uno decide di sposarti Fare cose in grado Fare cose in grado Mi sposi in chiesa Ho una domanda Cosa vuol dire Anche tu mi risposta Cosa vuol dire Non credo che mi sposerò No credo Cosa vuol dire Proiettarsi nel futuro E dire Cosa Eh questo è un grande errore Inutile No però Perché ti devo rispondere proprio io Sul non mi sposerò No no Perché mi piace Ha iniziato a convivere Secondo me Ha iniziato a convivere Eh Fra un po' Poi c'è il passaggio Matrimonio e poi tulipali La discesa è quella Sì Io a Pasquetta avevo la febbre Comunque ci tenevo a dirlo A Pasquetta avevi la febbre Ma nonostante questo Ho fatto una prana Ho fatto una prana a casa No dai Vi prego non dite mai a Giovanni Che cosa vuol dire prana Perché rimani Vabbè l'avrà capito Giovanni No 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 non dire Il dizionario Cioè tra un mese Tutti a Bologna Faranno questi pranzi Pantagruelici Che diventano cena Che diventano colazione Che diventano pranzo E poi diventa pranzo Allora fatemi fare la presentazione ufficiale Così andiamo per scontate troppe cose Eugenio Cesari Cesaro No No È una Bologna Alzo e me ne vado No ma sei a Bologna Bologna Cesare No dai lo accetto Alla scuola media Mi chiamavano Cesare O come il parto Mi prendevano sempre Meglio Cesari che Cesare Comunque è una malignità creativa Cioè Cesare Come il parto Come se fosse una cosa negativa Ma infatti sì Ma infatti io sempre pensavo Perché dovrebbe essere negativo Infatti Però sai Uno dice Ah Cesare Ma è il modo È il come Non il cosa Come il chitarrista Degli ero e le storie tese Che è un nome Che in un mondo parallelo È simile a Eugenio In via di gioia No no Non è anche tanto parallelo Pensate che Perché come si chiama? Noi diciamo Eugenio in via di gioia Ah quindi suoni Hai un gruppo No no Lui si chiama Cesareo Di cognome Quindi c'è questa somiglia Come il parto Lui davvero Ma una volta ero dal parrucchiere Il parrucchiere è per farsi figo Con gli altri Come si dice Parrucchiati Come si chiama? Parrucchieri Parrucchiani Parrucchiani Si è girato verso uno Delle persone A cui stava tagliando i capelli E fa Lui è famoso Lui suona negli Negli Elio in via di gioia Ha fatto una crasi Negli Elio in via di gioia No forse ha detto Scusate Eugenio e le storie tese Beh posso dire Più bello Eugenio e le storie tese Perché tu a quel punto Comunque c'eri Eugenio c'era Quindi poi eri Cioè è un disastro Mi si è girato Ah davvero? Quindi tu sei io No veramente Hai chiamato gli altri Ragazzi idea Ve la butto lì Io ve la butto lì Va bene Eugenio Cesaro Sì Eugenio e le storie tese Eugenio in via di gioia Sasso e tu Nato a Moncalieri Vabbè ma non possiamo Però ogni volta Aprire una parentesi Gruppo nato nel 2012 Da Eugenio Cesaro Emanuele Vita Paolo di Gioia Più Lorenzo Federici Via No però via No questo ho detto via C'è scritto via Ho detto via Vita hai detto Vabbè allora Vogliamo lavarla Perché ho un problema io Ho un problema io No stavolta almeno C'è scritto via Anche perché via di gioia Dire vita Nel senso diventa Eugenio in vita di gioia Eugenio e Elio in vita di gioia E Lorenzo Federici Che hanno conosciuto a Londra Poi magari ci racconti Questa cosa divertente Quest'anno festeggiano Dieci anni di carriera Sì Avete il nuovo album Che si chiama Amore e rivoluzione Avete appena finito Ho fatto Avete fatto adesso la data L'Alcatraz Sì sì abbiamo finito il tour Da poco Avete finito il tour da poco E che appunto ha culminato Con la festa grande L'Alcatraz per il giorno Eh sì Se vuoi dopo ve la racconto Però dai Iniziamo a raccontare Chi c'è con noi Poi Federico Cimini Detto Cimini Cimini questo è facile Come ti chiamavano? No basta Cantatore calabrese Distanza a Bologna Sì Distanza sembra Comunque non ci starai per sempre Questa biografia Te l'hanno scritta Allora me l'hanno scritta Io l'ho un po' modificata Garrincia Quindi nel caso colpo È la Garrincia Distanza è bello È molto brutta Distanza Distanza è molto brutta Però è bello Perché la seconda cosa Che c'è scritta È dal 2016 Con l'etichetta Garrincia Pubito Disco Questa era scritta Garrincia L'etichetta Garrincia Mi viene sto dubbio Famoso per partecipare All'etichetta Garrincia Dopo il singolo Che diventa Un culto della scena indie pop La legge di Murphy Sempre sotto l'etichetta Garrincia Pubblica l'album C'è scritto sempre sotto l'etichetta Garrincia Con Garrincia Ancora meglio nel 2018 Negli anni successivi Entra a pieno titolo Anche questa a pieno titolo È un po' da comunicato stampa Tra gli artisti di riferimento Quindi non l'hai modificato Un po' Perché era molto più lungo Però a pieno titolo l'hai lasciato A pieno titolo mi piaceva A marzo 2022 Pubblica il singolo Limone E oggi stava scrivendo un disco Finché ieri non è stato chiamato Con la scusa che Eugenio Deglio Eugenio di Via di Gioia Aveva la febbre Volevano anche te Ma non sapevano come chiamare Esatto C'è tu un'idea che orchestrazione Per avere Cimini Abbiamo dovuto fare con Eugenio Io sono Allora dimmi sinceramente Io ero in letargo Se io ti avessi chiamato Eugenio No Guarda non è un genio Ma io ieri ho detto Vai digli che non ci riesco Così lui viene Ieri ero no di partenza Perché non ci sono più abituato Quando La vita La vita Del cantante Quando sei in Garrincia Dischi Quando sei in Garrincia Dischi Che è un'etichetta bolognese Di stanza Si sta Puoi dire la verità Che ci hai detto prima a noi Te non stavi per venire Perché c'era il calcetto No Dì la verità No però Il calcetto L'ho L'ho spostato L'ho spostato Non parleremo mai Di musica Perché L'ho pisciato Però Dici la parola pisciato Sembra brutto Ho spostato il calcetto Vabbè di la cosa che vuoi dire Dai Tifi Cosenza Dilla così ce la togliamo Eh sì E tifo anche Cosenza Tifi anche Cosenza Quindi stai scrivendo un nuovo album Per Garrincia Dischi Sempre per Garrincia Dischi Sarebbe stato un bel plot twist Ma Garrincia Dischi volevo dirlo adesso Ne approfittavo per dire Ciao ragazzi Basta Giovanni Toscano È un artista Di Pisa Sì Classe 96 Sì Canta, autore, scrittore, attore Sì Ha frequentato l'Accademia di Recitazione di Firenze Diretta da Pier Francesco Favino Sì E attualmente è iscritto al corso di laurea in storia Sì Triennale Ebbene sì È ben Tutto vero Ha recitato in un film di Virzi Ha pubblicato un romanzo per Fandango È appena uscito il suo primo album che si chiama Arrogantissimo Cattelan ti ha chiesto Arrogantissimo perché sei tu arrogantissimo? La risposta è no No No, la risposta è no È più una provocazione È stato da Cattelan e da Fiorello Quindi gli mancava solo la merenda E dai Benvenuti 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 Un applauso Un applauso Si vede che sei uno scrittore Te l'ho scritto tu però questo No, no Forse sì, non mi ricordo Allora bisogna dare i contatti Che cosa? La scritta Yvonne che salutiamo perché è stata Ah, c'è un picio stampa Per due giorni che ci vuole bene Yvonne E quindi Prima di fare la rubrica che facciamo Volevo leggervi una cosa che è toscano Che Giovanni invece ha detto di se stesso Queste sono le cose delle Di Garrincia Lui ha detto di se stesso Curioso Per descriversi Curioso Ma allo stesso tempo Molto pigro Innamorato dei racconti Delle avventure Dei film francesi E della campagna Quindi mi fate una lista Delle cose che ti piacciono di più Cioè tra queste cose Una Basta Eugenio Tra queste Preferisci essere Esatto Preferisci essere Curioso Molto pigro Innamorato dei racconti Delle avventure Dei film francesi E della campagna Curioso Curioso Io sono molto pigro Infatti non sarei venuto Non perché mi state antipatici No Però il fatto che tu l'abbia detto E con prof Non è che non ho studiato Non è che non ho studiato Non è che mi state Sul caso La rubrica Come ci sei arrivato Cinque domande Che facciamo sempre a tutti Sono sempre le stesse domande Si spera che non siano sempre Le stesse risposte Due ore dopo siamo partiti Che ordine vogliamo tenere? Eugenio Federico Giovanni Eugenio Giovanni Perfetto Abbiamo una sigla? Vai vai Una sigla La mettiamo Sigla Cioè la sigla è Ho visto lei che bacia a lui Vai Come ci sei arrivato Allora vai Dove eravate Prima di arrivarci? Libera interpretazione Con Godot Aspettando Ci sta Applauso Applauso Era preparata No perché Ci ho pensato Adesso voglio vedervi Qual è la domanda? Come ci sei arrivato? Dove eri prima di arrivarci? Eh Ero Sul divano Ero pensieroso Sì ero sul divano Eri sul divano? Sì Però non potevo dire Cosa facevo sul divano Perché la mia storia Ti prego dicelo La mia storia col divano Inizia in età preadolescenziale Poi conosce una lunga adolescenza E Mi vengono in mente solo battute grevi Sì 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 In realtà è una citazione colta Esatto Dalla Disperato erotico stompo Perché Giovanni Cultura È uno che Perché Giovanni Nella sua vita Prima di arrivarci Ha fatto dei providi Perché Giovanni Perché Giovanni È molto pigro Ma è innamorato dei racconti Dell'avventura dei film francesi Della campagna Sì Che devo dire io? Dove eri prima di arrivarsi? Era a Pisa A Pisa E poi a Firenze E poi a Roma E ora qui Ci sei arrivato un sacco di volte Anche tu sul divano Come disperato erotico stompo Allora Domanda numero due Vai Seconda domanda Siete? Chi vi ha fatto perdere tempo? A parte la merenda Che non vale Come risposta Chiunque mi abbia voluto bene Bella risposta Allora genio Però Se tu dai sempre Delle risposte belle Sensate Intelligenti E sensibili Capisci anche Metti in difficoltà gli altri È chiaro La mia prof Tutti quelli Che gli hanno voluto bene Molto bello A me mi ha fatto perdere tempo Una vecchia etichetta discografica Che non era garrinciato Giovanni Tra parentesi Era comunque garrincia Sì era sempre garrincia No Ma io sinceramente Non credo di aver perso molto tempo Sì Sono una persona Che facilmente si annoia Sono molto irrequieto E questa mia irrequietezza In realtà Mi ha sempre portato a fare Fare C'ha 25 anni Ha scritto un libro Ha fatto un film Ha fatto E poi è curioso Molto pigro Esatto Film francesi Innamorato Dei racconti No Film francesi È solo per darmi un tono Questa cosa però Comincerà a mischiarsi E diventerà curioso Della campagna Ma molto innamorato Dei film francesi Vabbè comunque Alla fine è la stessa cosa È stata alla fine Come le metti le metti Non è che È molto È molto innamorato Mi piace perdere tempo Con i miei amici Ancora faccio comunque Fatica Faccio molta fatica A volte a concedermi La noia Il non far niente Mi hai detto che ieri Non sapevi cosa fare Ti stavi annoiando E quindi hai chiesto A una ragazza Che lavorava in un bar Se potevi aiutarla A mettere fuori i tavoli A mettere fuori i tavoli Lei ha avuto paura Cioè è una cosa Ed è rientrata È una cosa È perché tu passi Ciao ti aiuto a mettere a posto i tavoli No ma che dovevo aspettare I miei amici Che sono dei ritardatari cronici Ah ma è in quel bar lì No 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 Passavo di lì Stavo andando I miei amici Sono tutti veramente Molto Arrivano Gli amici mi fanno perdere tempo Sì Visto che questo è diventato Chiaramente subito Un podcast di maschi Bianchi Certo Quella ragazza lì È nei tuoi direct adesso? No Io non ci volevo una figura Io avevo voglia Di mettere fuori dei tavoli Da privilegiare E le ho citato Quale sono? Ho citato tutto Non ha capito E quindi niente Quindi dopo ci dare una mano A mettere a posto le sedie A sto punto Esatto Vediamo Terza domanda Terza Allora Non ci sono Qua vogliamo un po' di creatività Mi impegnerò a dare delle risposte a caso Vai Una risposta cinica questa qua Dai una risposta cinica Vabbè è molto cinica questa Non ci sono limiti Geografici Di codice della strada Storici Non ci sono limiti Spazio alla creatività Con che mezzo vi spostereste? Vabbè teletrasporto Si sta Perché? Chiaro È il più efficiente Assoluto Chi ci ha provato L'ha detto Sentiamo gli altri poi commenti Eh no però mi definisce un po' effettivamente No piccato Il viaggio è più importante dell'arrivo Perché lo consideri in un'ottica di efficienza Eh no chiaro Hai ragione Quindi questo È efficiente Devi cercare tra le righe Posso andare io prima di Cimini? Sì Ho paura che me la rubi Io vorrei volare Cioè comunque È uno dei miei sogni Io sogno O di scappare Che sono gli incubi O di volare E tendenzialmente è un bel sogno Quindi direi quello Cazzo volare hai ragione Eh dai Perché date sempre La risposta più bella prima di me Non ho una risposta La prossima tu rispondi prima No no Che poi mi viene l'ansia Stavi per fare una domanda A Giovanni No no Sicuro Quindi devo rispondere io Ma io molto semplicemente Mi muoverei No mi sposterei A parte non mi sposterei Perché quella storia della pigrizia Che ormai avete capito tutti Che è una storia Ma davvero mi muoverei Risposta seria In treno Perché è l'ambiente più bello In cui tu puoi Vedere le persone Cioè io sono un grande osservatore Delle persone È una domanda questa Nella carrozza ristorante Di un treno Però Possibilmente affollato Perché adesso non c'è più nessuno Nella carrozza ristorante A me piace vedere Le persone Sì sì Adesso sono ritornate Dopo la pandemia Fidati Sono andato nel Frecciarossa Si può dire Si può dire Perché nelle Frecciarossa Hanno tipo I menù di Carlo Cracco Sì sì In realtà sono dei tramezzini Normalissimi 14 euro Sì No no Non costano tanto Devo dire la verità Un saluto a Cracco Che tra l'altro oggi Ha detto che ha perso 4,6 milioni di euro L'ultimo anno Capirai che ha bisogno Ha bisogno di Ha bisogno di tanti tramezzini Esatto Di visibilità No però Eravamo su Lì al bar Per andare a Parigi Tornando da Parigi Andando a Parigi Abbiamo chiesto Visto che erano le 6 e mezza di mattina Un caffè americano Che tra l'altro è molto buono Un caffè americano Illy E la tipa ci ha guardato malissimo Perché era una signora italiana Ha detto Dove arriveremo? Era una signora napoletana E tu gli hai chiesto Il caffè americano Lei ha detto proprio Dove arriveremo? Ormai vi piacciono delle cose Che per noi sono incomprensibili Ce ne faremo una ragione Ce ne faremo una ragione Sti americani Una cosa sola Volare Tu 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 Sì Freddo Entro negli occhi Un ghiaccio Ci metti un sacco di tempo O volare Nell'idea che voli Nel sogno Ma non ci sono Ne agenti atmosferici Voli d'estate Bassa quota Ti metti un piumino Testa di addio Cappellino Ma non è che devi volare Per scrivere una poesia Di volare per spostarti Adesso volo un po' Ah però Romano Ah giù no Se mi chiedi di spostarmi Beh il treno è bello Effettivamente Treno che vola dai A me in treno Mi piace guardare I messaggi Di chi mi sta Cioè quando Cioè quando Cioè quando Cioè quando C'è lo stalker Fai schifo Capito Stai chiamando Ho spizzato Le conversazioni Tradimenti Litigi Ma che sei curioso Ma che sono curioso Però anche pigro La curiosità Però a un certo limite Dopo diventa stalking Cioè tu Dopo la storia dei tavoli Sì no veramente Inciuccia Pasquetta I tavoli ti fermi È una cosa assurda Forse è meglio che Tu stia a ferro Posso dire in una sola parola Arrogantissima 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 Guarda se continui così Ti arresteranno In stile mare fuori E non dico altro Adesso ce la teniamo per dopo Ci siamo già capiti Perché questa è una cosa Che voi due Neanche sapete La sappiamo solo Nei tre Eh ci può stare Perché il tuo genio Guarda di mare fuori E quando il pubblico La scopre Dalla terza stagione in avanti Mi sembra Posso dire una cosa brutta Non è che è una di quelle cose Come i tulipani Che ti costringono a farla No mi voleva costringere A un certo punto Dalla terza stagione Ho detto sai cosa È figo Eh beh Io non l'ho vista Prima i due Non mi hanno convinto Poi dalla terza Lei lo guardava E io mi sono messo lì C'è un ragazzo Che è un mio amico Che è un tuo grande fan È fan Ha appena fatto Sì Perché gli piace un sacco Eh beh beh Lunghe discussioni Nelle prossime cene Quarta domanda Per cosa rinuncereste A tutta la vostra cultura Aspetta Ridilla che non l'ho afferrata Per cosa rinuncereste A tutta la vostra cultura Risponde prima Cimini A sto giro sì La voleva Alla figa Sì Aveva paura Gliela rubata E dai che lo chiediamo Questo podcast Vai Avevamo paura Di chiedere Quanta gente viene Poi Eh sì Sì Spettacchi Però possiamo fare una cosa Perché queste robe Di solito Facciamo un cut Cioè è bello qui Scoppia un applauso Incredibile Noi taglieremo tutto Adesso lui rifà la domanda Io do la risposta E qui scoppia un applauso Incredibile Vai Per cosa rinuncereste Per cosa rinuncereste A tutta la tua cultura Alla figa Ma non è molto È un applauso teatrale Finto Ma mettiamola Alla striscia La notizia È finta È finta A naso A naso è la volta buona Che la chiude con garrincia Esatto Che la chiude così Bene Beh io sarò retorico Sì Sarò spudorato E qui mi aspetta un applauso Vero Vero Non finto Perché io da politico Alla pace nel mondo Mamma mia È la risposta di Edo Questa Scusate Non ho capito la domanda Allora Per cosa rinunceresti A tutta la tua cultura Cioè tu diventi uno Che non ha niente Non sa nulla Non è nulla Non è nessuno Ah no no Allora no No io preferisco Preferisco avere cultura E non avere figa Ho sbagliato Non avevo capito la domanda Allora forse Gli erano già fatta Un po' di tempo fa E hai risposto così No perché Tra l'altro È iniziato questo podcast Che convivo Eccetera eccetera Ma infatti poi è una persona Ma scusate Io continuo a non capire la domanda Linda Non guardare mai questo podcast Per cosa rinunceresti Per cosa La dico piano A tutta Ok Tutta La tua cultura Tutta la mia cultura Vengo da te e ti dicono Guarda se tu rinuncia a questo Da domani Succede questo Tutta la tua cultura Domani succede questo Però lì apriamo Un discorso più antropologico Perché nella cultura C'è anche C'è il modo in cui io penso Rinuncio alla mia identità Di base Sì potresti essere Potrebbe anche Cioè non sei più nulla Ricominci da zero Film francesi Esatto Campagna Arrivi in campagna La guardi Ragazzi non a caso Sto facendo una triennale Di storia in otto anni Comunque Una domanda tosta questa Cioè per cosa Rinuncerei a me L'ha capita solo Eugenio Sì È assurda sta cosa Ah te per la pace L'ho già rinunciato In passato Perché l'ho già rinunciato Alla figa No Ah per Per il benessere Mi dispiace essere un po' sempre Però per il benessere Delle persone a cui Veramente voglio bene Ah tu rinuncio Cioè tu praticamente Solo quelle a cui voglio bene Sì Cioè tipo Potresti aprirti a tutti Invece scegli No Ma no ma sinceramente Ma parliamoci chiaro Ma no scusa No ma non mi fa Non mi fa essere Grazie Adesso però Comunque no Sì Cioè Lui è quella persona Che quando c'è un terremoto E cadono tutti i palazzi E il suo no scende Vede le macerie Cammina sopra e va a lavorare Perché la sua casa Non è caduta Scusa Egoistissimo Fermi tutti No no Allora arriva Dio No questa è una domanda Che vorrei fare però A tutti voi A tutti voi per alzato di mano Bravo bravo Ok quindi allora Arriva Dio Occhi per lui Insomma E vi dice guarda Alla Geova Spongebob Tu Tu rinunci A te stesso Quindi tu da ora Non esisti più Perché poi di questo Che si parla Secondo me Se parliamo E vabbè La cultura va e viene Sono valori No però Tu rinuncia alla tua identità Quindi riparti dal zero Eh Vai una cazzata La pace del mondo In un attimo si rifà il bordello Però vabbè Rinuncia alla tua identità E il mondo Magicamente Per una settimana No perché per una settimana No poi tanto riparti il bordello Ma scusami Ma scusami No scusami E allora Se tu Fai investare bene i tuoi Quello invece dura per sempre Vabbè sì Ma è più piccolo È più realistico Applauso È più realistico Però visto che ci sei Oramai No però aspetta Veramente sono curioso Quindi Alzata di mano Chi rinuncia a se stesso Per la pace del mondo Voglio vedere chi Non alza la mano Dai Pochissima gente Ma siete degli individui Ma che bella community Che stiamo creando Possiamo vedere invece Queste mani Che non rinuncia a se stesso Per la pace del mondo Ma poi la pace nel mondo No Gli altri Non sanno Non dicono Ma scusate Ma la pace del mondo Non deve essere L'obiettivo finale Ma il presente Scusami Quei meme Bellissimi In cui c'è la ragazza Che è un ragazzo Che appoggia un foglio Con scritto No alla guerra E poi tutti i palazzi Che tornano su Cioè lui dice No alla guerra Ah stupendo No allora basta Ha detto no alla guerra Quelle email che arrivano Ragazzi stoppa la guerra Ah a posto Adesso l'ora la risolviamo Tutto torna indietro Però Gli altri quindi per cosa Alzata di mano Chi per i soldi Beh si Le alzate Assun Bujardi Qua c'è la Dell'ipocrisia Un po' è solo uno Nella storia del nostro podcast Ha risposto I soldi E io ho detto Guarda che poi Se rinunci a tutto Tu non sai neanche cosa farti Con dei soldi Tecnicamente Lui fa Non mi fai un cazzo Faccio l'ignoranza Basta Sesso Droga E chi era Che me lo segna Aspetta che lo aggiungo Su Instagram Era Renzi Comunque Giovanni Toscano È un papabile ministro Del governo Meloni No 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 A me piace Il discorso Elettore Non ministro Io sono d'accordo Con il suo cinismo Sulla pace del mondo Se continuiamo così Si prendono ammassate Sull'aiutare una ragazza A mettere a posto i tavoli Con fare Con un occhietto Un po' così O spiare le conversazioni Non spostiamo No Ma lui si è aperto a noi Noi a nostra volta Segnaleremo Esatto No Sai cos'è Che io credo Che comunque Cioè La nostra capacità Di empatia E di comprensione Del mondo Sia abbastanza limitata Poi c'è Chi più Sicuramente Molto più di me Riesce Ad aprirsi All'altro Quindi a prendersi a cuore Argomenti Di politica internazionale Per cui allora Direbbe proprio A spaterata No Io rinuncio a me Però chiaramente Cioè se io probabilmente Ora non voglio aprire tematiche Fosti un ucraino In Ucraina Probabilmente Non lo so Magari mi sbaglio Però mi verrebbe da dire Sì Rinuncio a me Per far tornare La paga Da italiano Che comunque sto bene E ora dopo Dopo prendo il treno E vado a Milano Non sento questo Bisogno Così Ed è triste A dire Me ne rendo conto Però impellente A rinunciare A quella In realtà Questa cosa L'è venuta fuori Parlando Facendo un discorso Più ampio Perché l'ultima puntata Abbiamo avuto due Un attivista Una militante Abbiamo parlato Di Medio Oriente Eccetera Ecco a Mario Non glielo facciano vedere Questa puntata No però No però Chiudiamo Però questo ragionamento Se io fossi curdo Probabilmente andrei in giro Davvero Facendomi saltare in aria Per la missione Per il motivo Per la causa Se fossi ucraino Non sono E quindi È effettivamente Più difficile Proiettare In maniera Tutto razionale Questa cosa qua Ci può stare Sto cercando di salvarla Ci sta Comunque È una risposta Molto personale No no Poi giù Sì vabbè Non approfondiamo Io l'ho detto La mia risposta È la retorica È chiaro che È chiaro che Non Poi non c'è mai stata La pace nel mondo Ma sì esatto È qualcosa di utopico Per cui Anzi probabilmente È più sensato dire Iniziamo dalla mia cerchia Poi man mano Però se devo Se non ho limiti Perché me li devo porre No hai ragione Ma infatti è una risposta Molto giusta Sì sì Riconciliazione Ultima domanda Un abbraccio Un abbraccio Di stretta di mano Un abbraccio Oddio Questo ragazzo Comunque mi piace Giovanni Giovanni mi piace Grazie Mi spiace non poter dire lo stesso Io ti sto con Ti giuro Sarebbe stato bellissimo Mi piace Sì però adesso Sì però Io ho già in salto Tocchicciano Perché poi uno si prende In evidenza Nel senso Già in salto Tocchicciano Sì sì Bene Però magari Ecco Grazie Ultima domanda Perché siamo ancora Alle cinque domande Voi avete tempo Perfetto L'ultima domanda È la stessa domanda Che facciamo tutti Vi chiediamo la cortesia Per favore Di rispondere come volete Ma senza usare La locuzione Si rivede Cioè non potete usare Se accettate il fatto Le due parole Si rivede Per rispondere Ma anche usate In maniera separata Vuoi dire Una volta Una volta mia zia Ha detto No Quello Lo puoi usare La locuzione Si rivede La domanda è Chi non muore Vive Non nasce Tendenzialmente Beato lui Sì Cioè Teniamola Finita Perché secondo me Se l'apriamo Sì è un casino Un dramma Umorismo calabrese Sì sì In Calabria In tutto questo Un po' umorismo colto Abbiamo in Calabria Tutto Distanza a Bologna In tutto questo Voi fate dischi Carrincia dischi Per contratto Ogni volta Dici musica Devi dire anche Carrincia dischi Sì guarda Io faccio musica Scrivo Per queste dire A Bologna E Com'è andata L'Alcatraz Visto che stavi Per dircelo Non lo stavo per dire Non che ci interessi Però stavi per dirlo Siamo appena Tornati dal tour Magari qualcuno Qui tra il pubblico Ha anche stato All'Estragon Vai grandi Sempre lui Sì io Io Ed è stato molto bello Devo dire Infatti si può anche sentire Che la mia voce Non c'è Ho avuto un paio Di ricadute Moleste Proprio appena ho finito Di suonare Non sono l'unico Anche gli altri Perché poi quando Finisce la tensione Proprio scende tutto E l'Alcatraz È stata Stupenda Una bellissima Un bellissimo finale Di tour Abbiamo Anche festeggiato il compleanno Di Eugenio in via di gioia E 31 anni di Emanuele via Quindi è proprio stata Una festa grande Ma visto che sono a Bologna Ma lo dico ancora Con maggiore piacere La data all'Estragon È stata la migliore Del tour Dei dieci anni Ma quando sei andato a Roma Hai detto la stessa cosa Sì 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 Allora devo dire che anche Roma È stata una figata Roma è stata figa Perché c'era il locale Molto piccolo Cioè molto basso E quindi tutte le urla Del pubblico Arrivavano come delle fionde E sembrava che cantassero Tantissimo Poi ho riguardato i video E cantavano meno di Bologna Però La conformazione Quindi Bologna Ti stronzi Mi raccomando Tagliate i muri In modo tale Ad arrivare più dritti E sono state comunque Tutte serate stupende Ma Bologna Al punto tale Che il concerto era finito Ma hanno iniziato A urlare fortissimo Eurovisione E quindi abbiamo dovuto Farla Perché se no Non se ne andavano Eurovisione Basta C'è una chitarra Quindi magari dopo 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 facciamo Eurovisione E Magari Vediamo Quindi figata Molto bello No più che altro I dieci anni Cioè come si vivono I dieci anni È come avere una grande famiglia Sono tanti Ma si passano in un momento Siamo partiti veramente Suonando per strada Ancora oggi Quando possiamo Torniamo Più che altro Torno io Perché mi piace scrivere Per strada Siamo stati In locali piccoli Come questo tavolo Dove c'erano tre persone Poi man mano Ci siamo spostati Fuori da Torino Fuori dal Piemonte Siamo arrivati Siamo arrivati fino in Calabria Dove c'era La città di Emanuele Via Che è di Acri È stata la nostra prima data Fuori dal Piemonte Insomma Poco per volta Abbiamo suonato E non ci siamo quasi resi conto Che stesse passando Tutto questo tempo Devo dire che È come una Una bella passeggiata Veramente E insieme A un certo punto Ti guardi indietro E dici Caspita Abbiamo fatto Tutta questa strada Solo che Non abbiamo mai preso Una Ferrari O un treno O volato O il teletrasporto Quindi Non ti sei reso conto Effettivamente Di andare veloce Andavi a sempre La stessa velocità Però la costanza Credo In qualche modo Ci abbia premiato Perché nel tempo Non ci siamo mai fermati Però Per farti una domanda Un po' retorica Però La sensazione Detta in una parola Cioè Dieci anni Sono tanti Comunque È una conferma È una grossa conferma Orgoglio Sicurezza Cioè adesso sei Ormai Ufficialmente Più tranquillo Non si è mai tranquillo Anzi Ma dico sicurezza Proprio anche solo Semplicemente Creativa O di gruppo Non per forza Sicurezza Che poi andrai avanti All'infinito Ah sì C'è una bellissima Situazione Come dicevo prima Sembra di essere in famiglia E si sta molto bene Nel gruppo Certo che però Le dinamiche del gruppo Sono un po' come Le dinamiche Di una classe Le dinamiche Di una città Di uno stato Cioè in piccolo Si ricreano Quelle storie Di Appunto Di ruoli E di Mansioni E di necessità Che col tempo Inizia a capire Non è mai statico C'è sempre dinamica E quindi non ti so dire Abbiamo Cioè questi paletti Non si sposteranno mai più Non so Magari tra un anno Ci sciogliamo E viene fuori Che ci odiamo tutti Oggi come oggi Vi posso dire Che è stupendo Però invece Nella relazione Con il pubblico Con Bellissimo E lì posso dire Che abbiamo costruito Qualcosa di bello Non so se sarà duraturo Perché nulla è certo Però è bellissimo Perché negli anni Si è creato quasi Un dialogo Più che un discorso A senso unico E quindi È bellissimo Tornare a Bologna Perché ci sono Alcune persone Che rivediamo Dopo anni Che sono cresciute con noi Altre che è la prima volta Che vengono a sentirci Ma tutti ci fanno Sempre i complimenti Perché il nostro pubblico Qui sembra che me la tiri Però lasciatemelo fare Ma sì Il nostro pubblico Cioè la cosa assurda È che ci fanno i complimenti Non per come abbiamo suonato Per il nostro concerto Ma tutti Ci fanno i complimenti Per il pubblico E che secondo me Rappresenta tanto Un po' come I film della Disney Dove i cani Somigliano Ai loro padroni No? E noi siamo un po' i cani E il nostro pubblico È il nostro padrone Anche perché Mi è sembrato di vedere Guardando Anche il video di Terra Per esempio Cioè proprio Li coinvolgete Tanto Cioè avete un rapporto Anche al di fuori Del palco Allora Con alcuni di loro Sono nate proprio Delle belle amicizie Con altri purtroppo no Ed è bello Che venga in maniera naturale Non bisogna neanche forzarlo Però sicuramente Passiamo molto tempo Bello insieme Quando abbiamo fatto La scritta Tiamo ancora a Torino In occasione Del videoclip di Terra Della canzone Uscita A Aprile O maggio Non mi ricordo più Aprile 2022 Quindi un anno fa È stato Veramente Veramente intenso Perché siamo stati Dalle nove di sera Fino alle sette di mattina A scrivere La grande Dedica d'amore Al nostro pianeta Ed eravamo Centocinquanta persone Alcune delle quali Magari avevano sentito Poche canzoni Però Erano state trascinate Da amici E sono rimasti lì Tutta la notte Con questi gessetti A scrivere Nonostante Passasse il tempo I pullman Finissero Perché da mezzanotte In avanti Non c'erano più i pullman Siamo rimasti Poi una cinquantina Da centocinquanta E tutti insieme Abbiamo fatto colazione In stazione Il primo bar Che si è aperto E devo dire Che come loro Non si dimenticheranno mai Di quella notte Io mi ricorderò per sempre Di quell'esperienza Quindi sì È proprio un dare E ricevere Continuamente Figata E si capisce la risposta La pace del mondo Alla fine Eh sì Vabbè sì È un senso Cioè È un po' l'obiettivo Che ci siamo posti da sempre Sembriamo Miss Italia Forse Però È questa La nostra Diciamo La cosa che ci sveglia Ogni mattina E ci fa smuovere Ci fa scrivere canzoni La pace nel mondo No Carlincia di spi Carlincia di spi Parliamo da Una concordia piemontese La volontà Di sentirsi parte Di qualcosa Di molto più grande Di noi E che non ci Non ci rappresenta Come individui In continua competizione L'uno con l'altro Cosa che invece Il nostro sistema Modello In cui viviamo Ci proietta Ma Provare a Stravolgere Questo sistema E vederci come Punti snodi Di una rete Orizzontale Nella quale Se vince uno Vincono tutti Se perde uno Perdono tutti Ho una domanda Che collega questa cosa Agli altri due Ma prima volevo chiederti Cosa sono le proprietà Emergenti Grazie per questa domanda Io le adoro Le amo Ogni volta che posso Anche durante il concerto A Bologna Le ho raccontate Le proprietà emergenti Praticamente Sono La contrapposizione Al sistema Morstua Vitamea Selezione naturale Omo Omo Una serie di atomi Sembrano 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 Entropici A un certo punto Di punto in bianco Sono talmente tanti Che diventano molecola E la molecola Ha delle capacità Che i singoli atomi Non avevano Così una serie di molecole A un certo punto Diventano cellula E le cellule Hanno delle capacità Delle caratteristiche Che prima Le singole molecole Non avevano Così via dicendo I tessuti Gli organi Gli organismi A quel punto Gli organismi Diventano società Diventano Storia E se non esistessero Le proprietà emergenti Tutto questo Non avverrebbe In larga scala Sia in positivo Che in negativo Perché Ma anche Una folta chioma Tu puoi dire Di avere i capelli Perché Hai tantissimi capelli Se te ne rimane Uno solo Diventi calvo E La qualità Una quantità Sostanziale Determina una qualità Ulteriore E come se Tanti zeri A un certo punto Diventassero uno E questa cosa È fenomenale Perché Poi mi riporta La pace nel mondo Mi fa credere Che l'utopia Non sia davvero Così irrealizzabile Perché non sappiamo A che punto Ci troviamo Di questi zero E la comunità Ci insegna questo Federico vuoi aggiungere Aggiungo Che Essendo uomini Perché appena Hai detto Uomo Omini lupus Oggi In questo periodo Ci troviamo A vedere anche Un Runner Sbranato da un orso E quindi Abbattiamo l'orso Insomma Noi uomini Abbiamo la cultura Abbiamo la possibilità Di creare delle soluzioni La società È tale Perché c'è Proprio la cultura Che differenzia Gli uomini Dagli animali E la cultura È trovare Delle soluzioni E fare un insieme Che possa avere Delle Delle soluzioni Intelligenti In questo senso È chiaro È chiaro È chiaro che Nel momento In cui Un orso Un orso Ti attacca E tu rispondi Adesso lo uccidiamo No È subito Per me è una cosa Che non ha nessun tipo È proprio la rinuncia Totale al pensiero Ovviamente generalizziamo Questo esempio Con quello che diceva Eugenio Che secondo me è sacrosanto Ci ha fatto un esempio assurdo Bellissimo La domanda secondo me Invece può essere Dopo torniamo a quella Che forse Se mi ricordo Di prima Però Può effettivamente Voi fate una cosa artistica Non fate divulgazione Ok Voi in generale Però In particolare Ovviamente Aspetta quello che hai detto tu Però È più efficace Può essere effettivamente Efficace Una espressione artistica Su questo piano qua Passaparola La pace nel mondo Sicuramente Nel tempo Perché tu dici Il pubblico Funziona Attraverso le canzoni Noi abbiamo trovato La nostra forma Per raccontarci Per esprimerci Per Per tirare fuori Il marcio Che avevamo dentro E i paradossi Nei quali vivevamo E ci sentivamo In difficoltà Nell'affrontare E quindi Questa è stata la forma Su cui noi Ci siamo proprio lanciati A capofitto Nel tempo Ci siamo resi conto Che quello che raccontavamo Era in linea Con alcuni Discorsi Fatti da divulgatori Scientifici O di qualsiasi Altro tipo E quindi abbiamo Collaborato con loro Io credo che Entrambe I linguaggi Siano necessari Perché ognuno di questi Va a intercettare Corde diverse Ma secondo te Ma secondo te Sia la divulgazione Che l'arte Può Convincere Esatto No può convincere Chi non è già d'accordo O alla fine Tu riesci solo A intercettare Più persone possibili Man mano che Amplifichi il tuo messaggio Che potenzialmente Sarebbero già d'accordo Con te Se non fossi Dell'idea Che si possa Cambiare il mondo Non avrei iniziato A scrivere canzoni Per cui Di fondo Io credo Che chiunque Possa essere intercettato E possa decidere Di cambiare Il proprio pensiero Le canzoni Hanno la grande forza Fortuna Alcune Di andare a beccare Direttamente le emozioni Invece che la razionalità È come se Tu saltassi Proprio Fai Non so Come un cavallo Che salta all'ostacolo Perché Le emozioni Sono più La pancia Un po' come fanno Alcuni politici Che vanno a colpire La pancia In maniera negativa Polarizzando Le idee Quindi ammazziamo l'orso In questo caso La polarizzazione Mi auguro che non avvenga Ma si arriva subito Alla pancia Perché le emozioni Colpiscono prima ancora Di qualsiasi Razionalità Tornando alla questione Del pubblico Dei dieci anni Voi siete a tre In realtà Stati Momenti diversi Della carriera Della musica Eccetera C'è un momento In cui Appunto Uno dice Ok Ce l'ho fatta A fare quello Che volevo fare Poi magari Fallisco domani Ci sciogliamo Dopo dieci anni Ho fatto Cattelan Ho fatto Fiorello Ho fatto una merenda Figata Adesso Posso chiudere O no Adesso faccio L'ennesimo Dico con garrincia dischi Ormai cazzo Cioè Ormai sono a posto Può succedere Che da domani Non funziona più Però Quello che dovevo fare L'ho fatto Cosa mi sta Ah penso volessi abbracciare Mi sono illuso Mi sono illuso La tisana La tisana La metti nella tazza No è chiaro Non so se è chiaro La domanda Travasami un po' di vino Anche a me Vai 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 Portiamo Le ordinazioni Sta diventando tintoria Che Voleva essere la merenda Sta diventando La tisana non va Comunque Bravo Eh Nel senso Uno fa questo mestiere qua Prova a fare la musica Anche perché Passare dalla velleità Alla professione Musicante Cantautore Musicista È proprio quel passaggio lì C'è un certo punto È un riconoscimento Che dice L'hai fatto Poi domani Allora Secondo me Loro possono sicuramente Parlare molto meglio di me Visto che comunque Stanno portando avanti Una carriera decennale È un grande Bel traguardo Io L'unica cosa che posso dire È che Dopo il liceo Avevo Un obiettivo Il mio obiettivo Era fare Un film da protagonista Pubblicare un libro E pubblicare un album E quindi La chiudiamo qua E quindi sì Quindi quando mi mancava l'album Grazie ai giovani Esatto Ok No La cosa che posso dire È che Quando ho fatto Ho raggiunto il mio primo obiettivo Che è stato il film Da protagonista Con Virzi Notti magiche E il giorno Esattamente dopo La prima Sono stato a casa Ero tristissimo Cioè Non era come me l'aspettavo Cioè comunque Pensavo che Appunto Avrei La mia vita Avrebbe subito una scossa Invece mi sono ritrovato Poi a dover portare fuori Il cane a cacare Sull'Ungarnia Pisa La mia vita non è cambiata Ed oggi In realtà ne sono felice Perché E non voglio assolutamente Che nel mio percorso Se andrà bene Me lo auguro Cambi niente Però sì C'è stato questo grande Perché Uno poi Punta al risultato E si perde Tutto il percorso Per dire ora Una cosa bella Che mi è successo Ultimamente Sono andato a fare Un concertino Io ho appena iniziato E non ero Non c'avevo voglia Cioè ho suonato Ho fatto questa apertura A Carmen Consoli A Macerata Però non mi andava Tornando verso casa Ho messo benzina Invece di diesel E qui è arrivato Questo vecchietto Dell'aci Che bestemmiava Come Veramente Una bestemmia Al secondo E ha portato In questo paesino Io ho vissuto Questo pomeriggio Bellissimo Con questo che bestemmiava Con questi vecchietti Mi sono messo a bere Qual è quello più grave La benzina nel diesel O diesel nella benzina Eh non lo so Stavo pensando anch'io Non mi ricordo mai Cioè questo piccolo evento Io mi sono divertito tantissimo E ho detto Cavolo Però lo vedi Cioè non è tanto Il concerto Il riconoscimento È tutto quello Che poi c'è È proprio il viaggio Cioè in questo caso È proprio il viaggio Cioè che a me Per me Aver perso Questa giornata Bellissima In questo paesino Di anziani È stato tanto bello La felicità Senza il concerto Non avrei vissuto Questa esperienza È un vecchietto Che bestemmia Esatto Potremmo rire Chiudiamo Ce l'hai fatta? Quando è che uno ce la fa? Ah Bisogna farcela Ma Allora A me piace questa cosa Che Fare un paio di dischi Con garrince dischi Non ce la togliamo più Questa cosa E riuscire a svegliarmi la mattina E pensare a scrivere canzoni Onestamente mi dà Mi dà un po' di tranquillità Verso il futuro Però Senza mai dimenticare Che la musica Per quello che mi Cioè per quello che penso io È il mestiere Tra i più precari Che c'è Che c'è al mondo Perché oggi puoi fare Una roba bella Che la gente capisce Oppure puoi prendere Addirittura in giro Il pubblico Facendo una canzone Iper paracula Che ti va nelle radici Eccetera eccetera Però domani Il pubblico Non essendo scemo Ed essendo questo Questo mestiere Basato proprio Sull'interazione Col pubblico Sull'emozione Eccetera eccetera Eh domani magari Puoi fare una canzone Puoi non arrivare più Ok quindi Ora come ora Mi sento felice Ma non posso dire Ce l'ho fatta Ma secondo me Nessuno di noi Può dire alla fine Ce l'ha fatta Questa è una spiga Che sto lanciando totale Però purtroppo È la verità Capito Cioè Ma Essendo un mestiere Basato proprio Sull'emozione Una canzone Non la puoi toccare Puoi toccare la sia Che ti arriva Semestrale Ma ce l'ha spiegato Paolo non torna Ci tutto per bene I punti si ha Però Al di là adesso Del futuro Però uno che inizia Non sa se ce la farà Potrà essere tutta la vita Quello che strimpella in casa O che alla fine Nessuno lo fuma O che non fa altro Quando inizia a pagarti L'affitto Già lì è un primo Scoglio Dici ok Ok parliamo di soldi Parliamo di soldi Parliamo di soldi E invece quando si inizia A vivere bene Cioè primo step Ah no Io ancora sono in alto mare Perché voi siete arrivati Con le macchine grosse Le cose Le borse Louis Vuitton Ho visto che stavate Flexando un po' lì fuori Sì prima flexavamo Eh Elicottero Elicottero direttamente Quindi voi vabbè Avete fatto già tutti Moltissimi soldi Ci tenete anche a farlo vedere Però Io sono venuto con la mia panda Comunque ci tengo a dirlo Chissà se la ritrovo Ah ma grande macchina una panda Eh 4.4 Non è chiaro però 8.500 euro Non ho flexato Senza optional Eh non è che Senza optional Tra l'altro aziendale no? Era una panda È una panda Grigio topo Che il venditore di auto Pur di Darmela Rifilarmela Mi ha detto Questa qui è grigio moda E invece è grigio topo Chiaramente Sarà chiaramente grigio topo Carta da zucchero To Sai che esiste il grigio nardò Il grigio nardò E cos'è? Nardò è un paesino In provincia di Lecce E hanno fatto questo grigio nardò Perché c'è un autodromo lì È un grigio ficcio Ed è diventato famoso Perché ci fanno le Porsche Ci fanno le macchine di lusso Con questo grigio nardò In Germania Sanno questa parola Era estremamente interessante Quindi volevo condividerlo con voi Era una cosa che secondo me Andava detta Andava assolutamente detta E va bene Cosa Lui ce l'ha detto Posso aggiungere qualcosa Ma ci mancherebbe altro Devi Non tocca Basta Non sto scherzando Ci sono persone che danno fastidio Quando ti toccano Giovanni Sa toccare Sa toccare i punti giusti Anni di esperienza È curioso Sai quante pasquette Quelle mani La pasquetta Solo perché c'è un cane Non mi doveva accarezzare lui Ma fermiamoci qui No no Vai avanti Vai avanti E dicevo Io non saprei Anche io la penso Abbastanza come Come Fede Cimini Garrincia Dischi Perché effettivamente Non si è mai Non si è mai arrivati Però dall'altra parte Se mi riguardassi adesso Quando avevo 18 anni Direi Caspita grande Siamo fortunati Siamo fortunati Siamo fortunati Poi chissà Domani Dopodomani È un continuo Ma Secondo me Tutto sta nel Non guardarsi indietro Adesso citerò Un film incredibile Paycheck Se guardi dove non puoi andare Perderai le ricchezze Che calpesti E quindi Non bisogna guardare Troppo in là Bisogna sempre Cercare di porsi Degli obiettivi Grandiosi Come la pace del mondo Ma allo stesso tempo Rimanere con i piedi Per terra E guardare Anche dove si è Ecco E questo è un esercizio Che bisogna fare Per essere felici Ogni giorno Ringraziare Non si sa chi Cosa Magari Abbiamo escluso Il dio cattolico Dall'inizio Quindi quello Non lo so Vediamo poi magari Chi chi Buddha Vediamo Buddha ultimamente Non va tanto di moda A meno che tu non voglia Succhiarmi la lingua Non succhiarmi la lingua Non ti va Non mi va Dopo ti chiedo scusa Ok No Non va Va bene Io ringrazio Mia moglie Però ringrazio i miei amici La mia famiglia Eccetera Però insomma Ringraziare il più possibile Per quello che si ha E quello che si è E poi Lì Lì sta Lì sta tutto Mi dici una cosa cinica A tua scelta Ti giochiamo il bonus cinismo subito E poi Una roba devastante Una roba terribile Vabbè chiaramente Siamo destinati All'inferno Ma quella non è cinismo Aspetta Abbiamo escluso Cinica deve essere No l'inferno L'inferno della vita Non della morte Deve essere un po' sprezzata Siamo destinati a passare I prossimi vent'anni In una roba Tristissima Esiste Godiamoci questo Questo bel Limbo Facciamo un discorso Prima con Giovanni Adesso che ti dico Che discorso è Direi Eh beh ci sta con Giovanni Farlo Esiste Non voglio ovviamente Sapere quale Assolutamente Non mi interessa Però esiste Una categoria Una categoria Cioè Un insieme Che ha Certe caratteristiche condivise Di esseri Umani O viventi Si sta proprio sul cazzo Non voglio sapere qual è Esiste? Sì Parecchi Quindi più di una Allora se quindi sei una persona Come noi Ottimo perché stavo cominciando a sentire veramente una merda io No non voglio perché poi risulto No scherzo No 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 sono anch'io Anch'io provo odio Ti ho dato Le persone che masticano facendo rumore Io mastico facendo rumore Quindi stai sul cazzo solo O non ti danno passore Sul cazzo ho un sacco di persone Ma a me piace Le persone che parlano sottovoce ASMR io le adoro Oh madonna santa però No ma state parlando di cose diverse C'è un conto tipo Sia masticare ad alta voce Che parlare a bassa voce No però parlate Ma se sei lì e fai aperitivo Lo zodiaco Chi crede nello zodiaco Lo odio Abbiamo trovato un briciolo di umanità In questa persona perfetta Ma è normale perché sono cancro È tipico dei cancro È giusto È giusto È giusto Io volevo chiedere una cosa a Giovanni Perché Giovanni ha scritto un libro Dice lui Olet poi mi dici se è vero Non esclusivamente però Principalmente perché hai dovuto imparare A battere la macchina Sì Il solito però funziona al contrario Cioè uno impara a battere la macchina Per scrivere un libro Sì No Appunto per il film di Virzi Che è stata appunto La mia prima esperienza E Giù ma faccio questi provini Va tutto bene In realtà non ero stato scelto Tra i finalisti Ma uno dei tre finalisti Ha fatto un incidente in motorino E quindi l'assistente Un incidente L'assistente Guarda ma c'è questo ragazzo Guardalo Scusatemi C'è una canzone Giornataccia Che inizia con Tu che arrivi a casa Con la macchina sfasciata Sì Storia vera? No Autobiografica? Chi lo sa? Chi può dire? Vabbè comunque nel film Interpreto questo giovane sceneggiatore Ed è un film abitato negli anni Nel 90 Una dell'estate del 90 Ehm Quindi dovevo sapere scrivere a macchina Perché c'erano delle scene In cui scrivo a macchina E lui mi ha detto Guarda esercite di quest'estate La gilcopione Perché non puoi sembrare impedito E quindi mi sono messo a scrivere a macchina Ho sempre avuto una passione Per la scrittura E scrivendo a macchina Inizio scrivevo tipo 33 trentini Poi Mi ha preso Ci ho preso gusto Ho scritto il mio primo racconto lungo Cioè per la prima volta Scrivo sempre no? Piccole In pensieri Immagini Invece ho scritto proprio Un racconto di 50 pagine Sono riuscito ad abbattere Il muro della lunga durata In scrittura E l'estate dopo Dopo il film Ho scritto questo primo romanzo Che si intitola Il guinzaglio E un po' come l'album Che è uscito ora Errogantissimo Parla di passaggio All'età adulta Parla di questo ragazzo Che va a camminare in campagna E dopo il percorso di studi Torna nella sua città E si imbatti in questa casetta isolata Dove ci sta una famiglia Di titolo francesi Insomma Tutto il racconto Abitato nell'arco di una notte Questa notte tra sconosciuti Era una cosa un po' che volevo Che mi capitasse In quel periodo Un po' di confusione Spaisamento Non mi è capitata L'ho scritta Figata Che bello Comunque uno che inizia A fare una cosa E infatti la fa Ma poi tra l'altro Le cose si collegano Perché la campagna Il ragazzo Cioè alla fine Effettivamente è utente L'incidente L'incidente Tutto torna Tutto torna Tutto torna Il non volere la pace nel mondo L'essere uno stronzo Vuoi dare un consiglio Ai giovani Più giovani di te Per come iniziare Ragazzi Prendete quello che è davanti a voi E fatelo E fatelo Quindi tu scrivi a macchina No 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 La macchina L'ho abbandonata L'ho abbandonata Scrivi le canzoni a mano No computer Note dell'iPhone Registrazione Ah ok Ogni tanto Sì sì no Vado con i mezzi di ora Dopo mi interessa capire Cosa vuol dire Che tu ogni tanto Dici che scrivi per strada Mentre canti Io scrivo a penna Cioè a me piace scrivere sui fogli Io sono molto preso in giro Dai miei collaboratori Per questa cosa qua Perché ti prendo in giro? No lo so Perché È poco È poco funzionale Esatto Più che altro Non puoi fare Tagli ai cuci Sposti No è bello Lo puoi fare Perché cancelli Cancelli con la penna E lo scrivi di fianco Cioè le mie canzoni Sono delle robe Che Sono tipo le pagine Manoscritti di Proust Mi piace poi vedere Queste tavole Preparatorie Cioè è una roba Che è quasi un feticcio Ma riesci a Perché di solito Il flusso del pensiero È più veloce della penna E noi siamo abituati Ad assecondarlo Con un sistema Che è più veloce della penna Ho capito Però Che lo regista No vabbè Magari No perché quando scrivi A macchina Cioè a macchina Eh sì Quando scrivi a macchina Quando scrivi con il computer Effettivamente Scrivi Vai giù Scrivi un'altra frase Attacchi Invece a penna Stai facendo dei calcoli Proust Secondo No no Però È una Cioè per me A me apre la testa Scrivere sui fogli di carta No ma c'è proprio Sui quadernini Sulle robe Cioè proprio mi piace Cioè sbagliare Cancellare Con che colore? Eh? Blu o nero No come capito Blu o nero No perché c'è gente che Rosso a volte Poi pennarelli Matite Ma perché Gente strana Una ricategoria delle persone Che scrivono Col verde Eh sì No scherzando Stai dicendo qualcosa? Tu? No no che A proposito di questo Cioè comunque È anche un esercizio Molto Che a me Anche mi ha aiutato Ci hanno segnato In accademia Che aiuta a sbloccare La creatività O quello che Magari I temi È difficile Trovare quali sono I miei temi Ed è Un esercizio Molto semplice Cioè di iniziare a scrivere Possibilmente a penna Consiglia No? E Si deve scrivere Almeno tre pagine Senza mai Fermarsi Quindi se tu non sai Che scrivere Proprio scrivi Non so che scrivere Sono qui Mi sto annoiando Questo esercizio È totalmente inutile Perché sono venuto A questo podcast Con questa gente Devastante Però non devi mai Fermare Per tre pagine Quindi non devi Fermare prima E effettivamente Se riesci A un certo punto I pensieri si sbloccano E dalla confusione Più totale Inizia a trovare Un filone Quindi questo è Sia per scrivere testi Storie A proposito di film E di retorica Un film retorico Di Gus Van Sant Scoprendo Forrester C'è questa scena qua Lui che insegna Lui che vince il Pulitzer Che insegna il ragazzo Del ghetto A scrivere Ok scriviamo insieme Mette due macchine Da scrivere Una di fronte all'altra Si mettono a scrivere Lui inizia E l'altro è fermo a pensare Comunque ragazzi Stai facendo le citazioni Culturalmente alte Scoprendo Forrester Ragazzi siamo qua No Questo è un film Ragazzi Io ho sta Vacanze di Natale Io sono con te Guarda Totò Peppino E le fanatiche Al massimo Proprio che Totò Peppino E le fanatiche Mi hai già perso Poi mi piacciono I film di Virzi Però quello suo Non l'ho visto ancora Però Abbassatevi per favore Che non mi piace La cultura popolare Allora Dopo facciamo un giochino Prendiamo a caso Due canzoni Che vi piacciono Della storia della musica italiana E le trasformate In corrida stadio Questo è molto Cattelan Però È molto Cattelan Te lo dico È molto Cattelan Posso dire una cosa E Cattelan Che ha copiato a voi No Ovviamente no Però una volta Con Luca Varavenna Edoardo Ferrari Abbiamo fatto Durante la pandemia Il gioco chiudila Cioè che uno apre la battuta E l'altro le chiude E loro l'hanno fatto Dopo da Cattelan Non c'entra niente Non è collegato Però mi è piaciuto Facciamolo Non c'entra È stato un momento Di grande orgoglio Vuol dire che Aveva un senso Quel giochino lì Ma non sai quante volte Io copio le canzoni D'artisti Che sono meno famosi Così poi dopo Cimini No no Sto scherzando Scrivi per strada Poi passiamo Scrivo per strada Sì Lo faccio da sempre E continuo a farlo Perché è la cosa Che mi piace di più In assoluto E Ognuno secondo me Ha il suo luogo Magari la cameretta Magari il bagno Magari in bicicletta Camminando in treno Cioè ognuno ha veramente Il suo luogo E i suoi modi E io tendenzialmente Mi metto il cellulare Sopra la chitarra Registro E poi improvviso Un po' per strada Se volete vi faccio sentire Sì È certo L'ultima che ho fatto Qualche giorno fa Il suo screensaver È la faccia di Jerry Scotti No Non è proprio Jerry Scotti Forse qualcuno Lo può riconoscere Ed è la cosa Che mi fa più ridere al mondo Chi è? Si è spento Mostralo Sono due persone Insieme Mosconi? No 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 Jerry Scotti c'è ovviamente Dura pochissimo Jerry Scotti E Papa Wittile No no Sarebbe praticamente Silvio Berluscotti Però non si vede Ma no È Jerry Scotti Eh da qui è Jerry Te l'hanno raccontata Genio mi sembra No ma scusami Vabbè vabbè Abbiamo perso il flow Mentre cerchi il pezzo Mentre cerchi il pezzo Facci dire che hai L'adesivo tam tam Dell'inno Esatto Del co Del l'inno Vabbè Della canzone È questo Silvio Berluscotti Ah lì si vede meglio È bellissima questa cosa Notevole no? Lo sai Lo mettiamo sopra Lo mettiamo qua sopra Così lo vedete tutti dopo Silvio Berluscotti Vabbè fa molto ridere Un alto momento di televisione Che Catlan ci ruberà È il sorriso Questo aquilino Questo aquilino Allora Praticamente ne ho tantissime Vediamo Capiterà Diranno di noi Canzone di dubbi a provenienza Quando non so cosa dire Scrivo canzone di dubbi a provenienza Io ascolterei quella Canzone di dubbi a provenienza Sì sì Dura sette minuti Vabbè Metti là Il punto topic Vabbè Vabbè Mezz'ora così Vado avanti Vediamo Poi a volte parlano le persone Quindi dico È andato a tre minuti e quaranta Vediamo come va avanti Tra l'altro la chitarra è fortissima Perché è sopra la chitarra Vai eh Per forza C'era uno che faceva il video Eh no E quindi sei fermato Forse Perché non ci può Non ho detto Dovrei scriverlo per terra Ci fai questo pezzo? No non lo sai E come non lo sai? Vabbè Come non lo sai improvviso? Poi dopo lo cerco di sbobinare Vado a casa Dico che accordi erano Aspetta come faceva? Come faceva? Facce vedere come sbobini Ok Come sbobini C'è una chitarra Applauso Applauso alla chitarra Edo edo Passa il microfono verso Ah sì No vabbè Ma tanto non dobbiamo Vai Mettimi qui Comodo Cosa sta diventando La merenda podcast A parte che scordare Grazie Che fortuna che suoni Tu le canzoni Vediamo l'Ukulele se vuoi Sì Dov'è l'Ukulele? Passatemi l'Ukulele Ma che scemo Stavo tanto Questo lo tagliamo ragazzi Tranquilli Ok Non mi ricordo come faccia Ma sì È tipo così Se no una canzone è sul Prucic Se vuoi Sì così no No sentiamo quella Siamo 70% di acqua Però non voglio spoilerarla troppo Se potete non fare il video Troppo tardi Troppo tardi Io non vorrei sottolineare Quello che è appena successo Però avete sentito una canzone In anteprima No 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 Adesso me l'avete bruciata Io lo dico Questa non uscirò mai Eh sì La merenda podcast No ma tienila lì Tienila lì Che secondo me Così lui tocca questa Vai È scordato questo ukulele È tutto scordato ragazzi Già che l'abbiamo portato Accordatelo Accordate un ukulele Accordate un ukulele Lo stavo lanciando lì Lo stavo per fare davvero Ma quante repubbliche poi Di quello che scrive Eh su Eh sì Ne scrivo magari una Una Ne canto una trentina E ne scrivo poi cinque Ok O magari le faccio delle crasi Faccio dei mischioni È bello però Perché alcune Lo capisci La cosa Perché vado per strada Perché capisco immediatamente Cosa sta facendo breccia In me E nelle persone che mi ascoltano Perché le persone comunque Si fermano Si fermano Cioè tu Insieme Le persone poi passano Si fermano Si fermano E come è successo Nell'audio che vi stavo facendo sentire Alcuni si mettono a fare il video Dicono Aspetta Questa canzone non esiste E Però vado di sera Che è quello che sta accadendo qui Esatto Vado di sera Vado di notte In modo tale che ci sia meno gente In centro Torino Però qualcuno deve passare Cioè è una È un È un Ma c'è qualcuno che tipo Ormai ti odia Dice ecco è arrivato lo scassa Coglione Eugenio In piedi giochi No cambio Comunque c'è questo dissing Che piano piano continua Cioè secondo me dopo si menano fuori Però si tocca Ma fuori però Ma forse si ameranno Tutta la vita E lui tradirà sua moglie Con cui si è appena sposato Tra l'altro Una sceneggiatura già scritta Con un uomo Con un uomo Sì è bellissimo Di dubbia estetica Lui O tu Entrambi Va bene Viste che ormai è il momento in cui suonate Facciamo una canzone di Tenko Facciamo una canzone di Tenko Qual è la canzone di Tenko che vi piace di più? Federico sceglie la canzone Tenko la camicia negra Tenko Questa è la prastica Non apprezzano frastica Questa è la frastica Ah io so fare soltanto una Che fa Vai fa Giriamo il microfono Ah scusami Vai 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 Ti do questo No no mi ha insegnato prima come fare Tu dovresti Adesso dovresti avvicinare Comoda Comoda sto set per Suonare Sì sì va bene Così va bene Così secondo me va bene Stai laudianto Perfetto Perfetto Vedrai 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 che cambierà Non so dirti com'è quando Ma un bel giorno cambierà Ma un bel giorno cambierà E cambierà Ti danno del califano anche effettivamente Mi danno È una voce We like it Qui è il problema alle corde vocali Che mi fa avere questa voce Dai dillo perché è il problema alle corde vocali È un tossicodipendente No Sì ho presente due graffi sulle corde vocali Che non fanno contatto E quindi è questa voce un po' Roca Mariosa Ma ti stai curando? No no Ma no A questo punto no Cioè visto che sta funzionando Di necessità virtù Esatto esatto No no Mi hanno proposto di fare un'operazione Da piccolino Però poi in realtà Devo starci a te Tipo ecco Io non ho ancora fatto come voi Tour grossi Però sicuramente Se dovesse andare bene Dovessi fare un tour Un po' più strutturato Devo fare tanto Tanto riscaldamento Che se no mi va subito È chiaro Per cosa rinunceresti A tutte le tue corde vocali? Per la pace nel mondo E qui E qui Allora Federico stai per dire qualcosa No no Sto toccando il microfono Avanti e indietro Vuoi cantare la camisa negra Così a cappella? No no Dai Non lo puoi fare Noi ci sono Cioè prestati molto Sono stati veramente molto In Calabrese Vai ti prego Ma no no Non lo so in realtà Tengo ASMR ASMR Vuoi il testo? Tieni Tengo la camisa negra Tieni No ce l'ho qua il testo No vabbè però Canta Tengo la camisa Ma come se fosse un coro del Cosenza Vai Giusto? Sbragato Sì sì ormai Tengo la camisa negra Perché è negra Tengo l'alma Ma è spagnolo Leggo lo spagnolo Forza Pisa Ogni amore Tengo l'alma una pena Cioè hai capito È più facile del Calabrese Hai detto elegibile o hai detto LGBQDR Più La seconda che hai detto Stiamo diventando un podcast Veramente Vai vai Io direi che a questo punto È giunto davvero il momento Delle domande del pubblico È giunto il momento Delle domande del pubblico Ci sono delle domande del pubblico Io dopo O prima O dopo Vai Cosa vuoi fare prima? Saluto La chiudiamo No Ah voi salutiamo nel dubbio Allora visto che questo podcast È fatto per un motivo semplicissimo Cioè per chiamare gente famosa Che fa delle belle cose Per fargli salutare il mio gatto Io pensavo La pace nel mondo No No Ci stai lavorando Ci stai lavorando No Io voglio la pace mia E del pruciz Fine Pensavo fosse amore Invece era Cimini Invece era Cimini Invece era Cimini Prima di continuare Questa è una frecciatina Perché lui è cattivissimo ragazzi Voi non lo conoscete Io lo conosco Da oggi pomeriggio Io lo conosco Da oggi pomeriggio Allora ci salutate Il pruciz Che ci guarda da casa Uno per uno Ciao pruciz Fate questa cosa Lo so che è imbarazzante Però l'hanno fatta tutti Cosa vuol dire pruciz Dove guardo là Guardo là Ciao pruciz Lui è il pruciz Ah lui è il pruciz Tutto questo è fatto per il pruciz Devo dire che se me l'aveste chiesto Un anno fa Vi avrei detto Voi siete completamente pazzi È vero Ma adesso hai un gatto Invece Hai un gatto E vi racconterò anche una storia Come si chiama? Allora vi racconto tutta la storia Dai sì Perché è molto dolce questa storia Io pensavo di essere allergico ai gatti E in qualche modo un po' li odiavo Perché non sono mai stato Vicino a animali domestici in casa La mia fidanzata Nonché oggi mia moglie Aveva un gatto Io ogni volta che andavo da lei Stavo male Il fatto sta che a un certo punto Lo prendo in braggio E non mi viene nessuna crisi Scopro di non essere allergico ai gatti Ma di essere allergico All'umidità che c'era nella sua casa Incredibile Lei questo non lo sa Allora cosa faccio? Mi ho toccato Mi ho toccato Continuiamo Continuiamo Cosa succede? A un certo punto Dico vabbè Io voglio chiedere a Francesca Di sposarmi Cosa faccio? Le regalo un gatto Ma dio dio Bellissimo Cosa sono? Tutti gli album Cosa? La pace Allora Succede questa storia La cugina Della mia attuale moglie Aveva questa cucciolata Io mi innamoro Di un paio di gatti Mia moglie Si innamora Di un gatto in particolare Allora io chiamo subito La cugina Mi ha detto Senti Non ucciderlo Lui non uccide Gli altri fa quello che vuoi Non affogarlo Lui tienilo Non mangiarlo Lui tienilo L'ha tenuto Stavo per andare a prenderlo La mia fidanzata mi fa Ma senti lo prendiamo giusto per provarlo una settimana Giusto così Per provarlo Per provarlo Per se stai male Poi se stai male Lo ridiamo Lo restituiamo Sta diventando Bruttissima questa storia Per provare a vedere Se tu non stai male E io dico No Assolutamente no Perché dentro di me Sapevo che gli avrei preso Assolutamente no Lo sai che io sto male Tu sei Bisticciamo Succede che Il giorno dopo Faccio per andare a prenderlo E la cugina mi dice No guarda Non te lo posso dare Prima di tre mesi Perché deve essere svezzato Niente Io avevo già iniziato a bisticciare Con un litigio Che durato settimane Mesi Finalmente tre mesi dopo Riesco a recuperare questo gatto Lo chiamiamo Lo chiameremo Poi lo dico dopo Lo chiameremo Comunque Recupero questo gatto E quella sera Avevo un'intervista con Divano Letto Uno delle Iene Lo conoscete? Nicolò Nicolò Scopre da qualcuno Del gruppo Che io ero andato a ritirare Questo gatto E durante la diretta Dice Allora Eugenio Hai ritirato il gatto E lei stava guardando La diretta E io ho detto No nessun gatto Lui si accorge Che io non volevo parlarne E ha continuato a parlare Perché lui è una Iene È un bastardo E allora dai Parliamo di questo gatto Il gatto di Eugenio È il gattino Non ne vuole parlare Io no ti prego Taglia taglia Lui continuava Continuava Fatto sta che Grazie a Dio Non so perché La mia fidanzata In quel momento Non stava guardando La diretta Forse non si sa Non voglio sapere Probabilmente È andata in bagno Magari mi ha sempre mentito Non guardava le dirette E torno a casa Le do il gatto E finalmente mi dice di sì Lo chiamiamo Filippo Fresilli Come la persona Che ci ha fatto conoscere Oh Ha un nome e un cognome Filippo Fresilli E quindi da quel giorno Amo i gatti Io ti chiedo Cioè ho solo Perché non mi hai raccontato Subito questa cosa Così la chiudevamo 10 minuti Io volevo questo Cioè tu quando L'hai dato il gattino No è successo questo Io le ho chiesto E lei Mi ha detto di sì Ma me l'ha detto In maniera quasi un po' Superficiale Sai Sì Arrogantissima Per citare Per fare la citazione Cosa succede? Che no Era nell'altra stanza Lei non sapeva niente E io mi sono giocato Ho detto Se mi dice di no Poi lo prendo E lo butto giù Giustamente E lo sgozzo davanti Giustamente Invece mi ha detto di sì E ho detto Vabbè dai C'è un'altra sorpresa Visto Apri quella stanza Sono incinta No Lei sa piangere E lì ho capito Che Lì ha capito Che ero la persona giusta Prima secondo me Era un sì Un po' No guarda Non voglio rovinarti Un sogno Ha semplicemente visto il gatto Però se ti piace Però se ti piace l'idea Che ha capito Che sei una persona giusta Tu tienitela Ok Godetevi tulipani Andate in pace E no scherzo Però veramente bello Ciao Prusiz Ci vediamo presto Ciao Prusiz E per favore Ciao Prusiz Ce l'avevo detto prima È il primo È il primo È il primo È la digressione Però posso dire Una storia triste Legata a questa cosa Se è una storia Che vogliono i gatti Non è mai morto Io andai a convivere Con una mia ex ragazza Dell'epoca Con una ragazza dell'epoca E abbiamo deciso Di prendere un gatto Come simbolo d'amore Pochi mesi Ci siamo mollati Allora No questa cosa È un'estensione indebita Della connessione Della correlazione Causa effetto Tra Sto esagerando Sto dicendo male Tra il fatto che il gatto C'entri qualcosa Con il fatto che vi siete lasciati No Non era una cosa Che funzionava E avete provato Invece che fare figli E prendere un gatto Come si fa Sarei tuttora legato Ma a me interessa una cosa Tu hai sofferto Non mi interessa Il gatto ha sofferto Per il gatto sì No come ho sofferto Per il gatto Ho sofferto tantissimo Mi sono lasciato Mi dispiaciuto per me Ma dov'è il gatto adesso È andato via Orfanotrofina È andato via Con È andato via La mia domanda è Tu uccideresti un gatto Per la pace del mondo Attenzione E qui la chiudiamo E qui la chiudiamo Qui la chiudiamo Vai Il ciurcolon Io La risposta è no Non ucciderei nessuno No tu no Ma lui Voglio sapere lui No Allora Allora Edoardo Non le frega niente Ma sai qual è il problema Ma lui si è capito già Da oggi pomeriggio Non le frega niente di Ma lui Del progetto Allora Un gatto Posso dirlo Un gatto a casa Posso essere sincero E poi la chiudiamo Però veramente brutalmente sincero Se è brutto il gatto sì No Basta Signori ringraziamo Eugenio Ringraziamo Giovanni Ringraziamo Federico Grazie Dovresti coltivare questa passione per la musica secondo me Ti vengono bene anche le canzoni Eurovision Basta Mi sembra che gli ha detto questa cosa Chiudiamo dai Poi ti liberiamo Ma io vorrei rimanere con tutta la vita Cioè non qui proprio In questo mondo Che è necessario di pace Va bene Vuoi stare così con la chitarra? Perfetto Così con la chitarra Così facciamo due in uno Vai Non mi uccide Non mi uccide Maneschin Eurovision Italy Everybody want to see Mafia, pizza e mandoli Thanks Maneschin Eurovision in Turin Everybody want to see How is beautiful Turin Here is the mole Here was the king Panna Cotta With Crissini Agnolotti Del Plin Juventus Torino The Alps The vino The sindone The smog The park Valentino I know Rome is bigger There is water in Venice Milano is richer But Torino is crazy Please Ferragni Come to visit Musaigitzi Cos we won't be famous Like with Fizzi Want a car? Take a Fiat Want a bus? Take tramvia Want to drink? Two retro Want to swim? Riverport Thanks Maneschin Eurovision in Turin Everybody want to see Viterstune With Tiarin Thanks Maneschin Eurovision in Turin Everybody want to see Gian Duiotti With Tommi Please Ferragni Come to visit Musaigitzi Cos we won't be famous Like Fizzi Please Ferragni Come to visit Musaigitzi Cos we won't be famous Like Fizzi Do you want San Savoyardi Mira Flowers Alto Guardi Here the first Cabinette Umberto Toz Farinette La Poel Cane Cavour Gabri Ponte Carla Bru Barbero Buscaglione Rita Montalcini E Pavone Thanks Maneschin Eurovision in Turin Everybody want to see Gian Duiotti With Tommi Please Ferragni Come to visit Musaigitzi Cause we won't be famous Musaigitzi Cause we won't be famous Musaigitzi 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 Non vorrei che diventasse un sequestro di persona Musaigitzi Musaigitzi Faccio Musaigitzi Un prana Musaigitzi Ma è una Un prana Un prana Perché non vi stiamo regalando delle belle cose No Si Vai Da quale partiamo? Ma in realtà Vi faccio un altro pezzo Che si chiama Congolè Sempre dell'album Grazie Fai quello che vuoi Grazie Grazie mille La chitarra si sente? Minchia Joe Che bomba Che avevamo addosso Io Mi sono svegliato Ufficialmente ora E congolè Congolè E congolè E congolè E congolè E congolè Magari vuoi un caffè E congolè Ah Magari andiamo al parco Magari faccio il porco E congolè Eh Andiamo a casa mia O casa tua E ci guardiamo un film Sennò con questo caldo Facciamo la fine di un gelato Che spreco E congolè Congolè Ah E congolè Congolè Ah E congolè Congolè Ah 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 Andiamo a casa mia E ci mettiamo un disco Magari metto vasco E se ti guardo le tette Solo perché sono più basso Ed il mio sguardo Punta lì Mi sono fatto Tutta la fibi lì Eh E congolè Congolè Ah 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 E congolè Congolè Ah 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 E congolè Congolè Ah 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 Non riesco a stare Beh vedi Fa sempre questa cosa Non riesco a stare solo Invece sono solo Che pure stare soli Ci vuole l'invito Ma non l'ho mai capito Io non l'ho mai capito Che dormo tutto il giorno Poi la notte volo Che sto perdendo Al mio gioco preferito Non l'ho mai capito Che non basta mai E ti credo un amico Mentre te E ti credo un amico Mentre te ne vai Mentre te ne vai Mentre te ne vai Mentre te ne vai Non ho la confidence Non ho la cura Non ho la tempra Non ho la cultura Non è facile fare l'artista Con questa sensibilità immatura Mentre te ne vai 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 Però tu quando poi ritorni da me Non mi fai capire nemmeno Che io sono te Che io sono te Così simpatico Così intimista Così coglione Così intimista Con un coltello dritto sulle spalle E' il desiderio di ferire E' il desiderio di ferirti mai Mentre te ne vai Mentre te ne vai Mentre te ne vai Vuoi cantare le cose, cantare la gente, parlare di cose profonde Essere un genio, curare il fisico, essere libero, essere romantico Ma non è tempra, non è la cultura, non hai la confidence, non hai la cura Sono la parte di te, la parte di me, che non applaude mentre te ne vai Mentre te ne vai Direi che siamo andati molto oltre ogni aspettativa Quindi fate un altro grande applauso a tutti e tre Grazie mille, grazie a voi per essere stati qua Buona serata Allora, vogliamo fare una foto?